Grazie David, sono molto onorato di essere qui con voi, mi è piaciuto tanto le presentazioni oggi e proverò a darvi qualche spunto su quello che succede all'ESA e anche in Europa in generale. Se possiamo avere gli slide per favore, se c'è qualcuno lì dietro. Ecco, dunque siamo tutti astronauti che viaggiano nello spazio su un'astronave che si chiama la Terra. E questo si vede benissimo da un'altra astronave che è la Stazione Spaziale Internazionale. Questa è l'immagine che si vede da lì, lei si muove a una velocità di 27.000 km all'ora. E la Terra appare bellissima dallo spazio ma anche molto più piccola di quello che appare qua perché ci vogliono 90 minuti per fare il giro del pianeta che io ho messo di più per arrivare qua da Roma oggi. E dunque questo concetto di astronave non è una novità, è nato negli anni 60 con l'inizio dell'era spaziale e è nato per rinforzare l'idea che siamo tutti sulla stessa nave, che abbiamo una common destiny, che quello che ci unisce è molto più forte di quello che ci divide. Noi siamo qui su una missione a lungo termine e le risorse di acqua, cibo e aria che abbiamo sono limitate. La nostra energia viene dalla nostra astronave madre che è il Sole e ci arriva attraverso un sistema del clima molto sofisticato che fa sì che la temperatura che abbiamo oggi è quella che permette la vita. Ma la metafora di astronave è anche stata inventata per far riflettere sulla nostra fragilità perché l'unica cosa che ci protegge dai pericoli dello spazio è questa piccola, sottile atmosfera che vedete qui all'orizzonte. Senza di quella non ci sarebbe stato vita. Dunque i miei nonni non erano al corrente che noi siamo su un'astronave, però le conseguenze sono molto importanti di questo. Prima di tutto le nostre risorse sono limitate, non abbiamo un'altra nave che ci dà le risorse. Dunque noi, anche se siamo su quest'astronave per poco tempo, dobbiamo gestire queste risorse in un modo sostenibile per i prossimi passaggeri. E questo ci dà un senso di responsabilità molto grande. E come sulla stazione spaziale, dobbiamo lavorare in squadra come astronauti e diventare membro di questa squadra per tenere l'astronave in ordine. Come vedete qua, si vede questi bellissimi pattern di luce dallo spazio. Durante il giorno è molto difficile vedere i segni della nostra specie sul pianeta, ma durante la notte è totalmente diverso. Si vedono le città, si vedono le infrastrutture fatte dall'uomo, le autostrade, i fiumi, eccetera. Dunque si capisce che c'è qualcuno. E questa visione è abbastanza nuova, perché anche se siamo stati messi qua da milioni di anni, è soltanto durante le ultime due generazioni che la nostra astronave si è illuminata così. Dunque, prima era tutto nero, nero come lo spazio. Ogni tanto c'era un fulmine o un fuoco, ma era tutto nero. Vuol dire che in queste due generazioni noi siamo diventati una forza globale, una forza geologica, che ha portato a tanti cambiamenti globali sulle foreste e ecosistemi, e il cambiamento climatico da cui abbiamo parlato è soltanto uno di questi cambiamenti. Gli scienziati, per parlare di questo, dicono che c'è anche una nuova era, che si chiama Anthropocene, che è un po' quello che è il Jurassic era per i dinosauri, se volete. Se volete sapere un po' di più su questa Anthropocene ve lo dirò alla fine della presentazione, anche quando è iniziato, dunque dovete rimanere con me per un po' di tempo. Dunque il problema è che siamo diventati questa forza globale, dunque siamo in controllo di questa astronave, ma non avevamo nessuna idea che sarebbe successo, non l'abbiamo fatto apposta, e non sappiamo come gestirla, e peggio non abbiamo un user manual per sapere come guidarla. Dunque dobbiamo imparare e dobbiamo farlo molto in fretta, e per questo dobbiamo usare la scienza. E la scienza si appoggia su osservazioni, e io su wifi, che non funziona. E dunque come Galileo dobbiamo costruire nuovi strumenti, nuovi telescopi, che permettono di vedere al di là di quello che si vede con l'occhio. E questi strumenti sono molto potenti, perché questo qua ha portato a una rivoluzione, che si chiama Copernicus Revolution, che ha cambiato il modo in cui vediamo il nostro pianeta, che non è più al centro dell'universo. Ma noi dobbiamo fare strumenti che guardano verso di noi, perché noi facciamo parte dell'esperimento che stiamo facendo. E perciò che le agenzie spaziali attraverso il mondo hanno costruito la nuova generazione di telescopi, le hanno messi su dei satelliti in giro intorno al pianeta, per avere un monitoraggio completo di quello che succede. In particolare l'Europa ha avuto tanto leadership su questo, perché ha costruito il sistema più grande di monitoraggio, che si chiama Copernicus, che include una serie, una famiglia di missioni, che si chiamano Sentinel, che guardano attraverso tutto lo spettro elettromagnetico in un modo continuo, a una risoluzione di 10 metri ogni settimana, con dei dati open. Dunque questi satelliti ci danno una visione globale di quello che facciamo noi sul pianeta. E mentre sto parlando, loro monitorano una serie di parametri, chiamati in inglese vital sign, che sono i parametri che dicono la traiettoria della nostra astronave, la salute. E ci sono tanti parametri, abbiamo qualche esempio qui di la temperatura dell'acqua, l'altezza dell'acqua per l'oceano, l'umidità sui suoli, o anche l'inquinamento atmosferico. Ma di più possiamo anche misurare la vita attraverso la clorofil, sia nell'oceano che nella vegetazione. E questi parametri ci danno un tipo di conoscenza globale di quello che succede. E' un po' la base, se volete, per creare il user manual della nostra astronave. E questi dati sono petabyte di dati, dunque giganti, e gli scienziati riescono a convertire questi in qualche indicatore, un po' come nella vostra macchina per capire se c'è la benzina, dunque delle cose molto semplici. Qui per esempio c'è l'indicatore globale di carbon dioxide, che si chiama la curva di Killing e che fa vedere che c'è un ciclo a livello annuale, dunque ogni stagione c'è un ciclo perché la vegetazione respira, dunque rilascia CO2, ma c'è anche una tendenza. E questa tendenza siamo noi. Sono le nostre attività che hanno rilasciato il carbonio che stava nel suolo per migliaia di anni, l'abbiamo rilasciato in meno di cent'anni. E questo ci fa arrivare a una concentrazione oggi di 400 ppm, parti per milion, del CO2, che è molto più alto delle condizioni in cui la vita stessa è nata. Il CO2, come sapete, porta all'effetto sera che riscalda il pianeta e qui vediamo che la temperatura globale si può misurare molto bene nell'oceano dallo spazio perché il 90% dell'energia va direttamente nell'oceano. Ha un'inerzia termica molto forte e il motore del clima. E questo porta anche a un alzamento del livello dell'acqua semplicemente perché l'acqua si espende quando si riscalda. E vedendo questi due grafici insieme possiamo sviluppare questa visione sistemica del problema dell'astronave. Dunque possiamo capire come un parametro è connesso con un altro parametro. E questa visione che è data dallo spazio è la base di quello che si chiama la scienza del sistema Terra perché vi permette di capire come l'oceano, l'atmosfera e il ghiaccio sono legati per creare il clima che abbiamo oggi. Possiamo anche vedere la relazione fra la temperatura e il ghiaccio. Ovviamente il fatto che si riscalda scioglie il ghiaccio sia in estensione che in altezza. E c'è un altro feedback qui un feedback positivo che si chiama albido in cui quando si scioglie il ghiaccio viene ovviamente l'oceano e si riflette meno la radiazione e dunque si riscalda di più e scioglie di più il ghiaccio. E dunque questo fenomeno farà sì che durante questo secolo non ci sarà più ghiaccio al Polo Nord durante la stagione estivale. E questo aprirà delle nuove ruote e avrà un impatto economico notevole anche sull'esploitazione del petrolio, eccetera. Dunque questo cambiamento del ghiaccio nel Polo Nord ha anche delle conseguenze per noi perché sono globali cambia l'atmosfera cambia l'oceano e fa sì che riscalda anche la calotta della Grunlandia che è una calotta molto importante perché se si scioglie tutta si alza il livello dell'acqua di 7 metri dunque è proprio una cosa che va studiata e vedete qua che lo scioglimento si fa sui bordi della Grunlandia perché arrivano ghiacciai che si spezzano e diventano iceberg. e grazie ai dati satellitari abbiamo messo in evidenza un altro fenomeno un altro feedback che accelera se volete lo scioglimento dei ghiacciai e il fatto che quando si scioglie la neve sopra l'acqua viene giù arriva sotto il ghiacciaio e fa un tipo di lubrificazione che lo fa scivolare molto più veloce questo non era previsto dai modelli matematici e è stato inserito grazie ai dati satellitari e ovviamente tutti questi cambiamenti hanno anche impatto sull'ecosistema e sull'agricoltura l'abbiamo visto qui ho un esempio della produzione di riso che è diminuita nel 2015 dovuto al nino che ha fatto sì che c'era a cecità e senti nell'uno che un radar ha permesso di capire qual era la produzione di riso e di quantificare esattamente come andava dunque abbiamo usato per gestire questa emergenza e tutti questi dati servono anche per darci un modo di guidare la nave che abbiamo in uno spazio di sicurità ma anche sostenibilità e noi qui non abbiamo l'equivalente del capitano Kirk ma abbiamo un tipo di compass una bussola che è stata data da 190 paesi che si sono messi d'accordo su un insieme di sustainable development goal che vedete qua e che ci dice delle cose di base tipo noi dobbiamo tutti avere cibo acqua e aria dobbiamo respirare un'aria di qualità dobbiamo avere un clima che ci permette di svilupparci e possibilmente non dobbiamo avere passeggeri di seconda classe dunque non ci deve essere povertà e per utilizzare tutti questi obiettivi bisogna che il sistema della nostra astronave di live supporting stia funzionando e per questo dobbiamo monitorarlo per gestirlo meglio ma questi dati sono anche usati per delle applicazioni nella vita di tutti i giorni questo è stato un hackathon che abbiamo fatto a Barcellona qualche settimana fa ne ho approfittato per ricordarvi che siamo tutti astronauti dunque è stata un po' una competizione come oggi e il vincitore che vedete qua è venuto con un'app che si chiama Snap Planet che potete scaricare su internet e che fa un selfie dallo spazio su qualsiasi indirizzo che mettete questo per esempio è Varsovia ma possiamo anche vedere i campi possiamo vedere delle immagini bellissime a 10 metri di risoluzione dei fiumi questo è l'Etna per esempio è come possiamo guardare in più bande vedete che se guardo nell'infrarosso posso vedere la lava che scivola eccetera dunque questi dati ci danno una nuova visione di trasparenza ambientale e anche un senso di responsabilità su questo è proprio un nuovo tipo di democrazia in cui possiamo far vedere cosa succede nel mondo è veramente una cosa unica perché sono dati open e voi con un cellulare oggi potete far vedere l'inquinamento o il fuoco quando c'è una guerra eccetera dunque una cosa molto potente di trasparenza e grazie alle tecnologie esponenziali e alla connettività che abbiamo oggi possiamo anche diventare noi dei provider di information dunque abbiamo la possibilità oggi di diventare una sentinelle noi stessi della terra per tenere questa astronave questo è un applicativo che si chiama Picture Pile in cui ognuno di noi può aiutarci a classificare i dati cioè ricevono dati e hanno una domanda e fanno sì no maybe e grazie a questo se abbiamo centinaia e centinaia di persone che guardano questi dati possiamo avere una verità terra si chiama che ci permette di capire cosa succede sulla terra dunque è un tipo di crowdsourcing dei dati questo è l'inizio di quello che chiamano la planetary intelligence dunque un aspetto collaborativo globale che aiuta un altro tipo di business e per tornare alla stazione spaziale e anche alla Yuri Snyde che è stato manzionato perché è stato l'anniversario la settimana scorsa questo è un bellissimo film che si chiama First Orbit che potete andare a scaricare su internet che è il primo viaggio di Gagarin rivisitato da Paolo Nespoli sulla stazione spaziale che aveva più o meno la stessa orbita e questo inizia proprio il nostro cammino nello spazio che otto anni dopo ha culminato con qualcuno che ha camminato sulla luna e un astrobiologo che si chiama David Greenspoon che ha scritto un libro recentemente molto bello dice che l'anthropocene potrebbe iniziare con l'inizio del viaggio dell'uomo nello spazio perché gli scienziati cercano degli elementi nei fossili che rimangono lì per l'eternità e questa traccia sulla luna non è soltanto un simbolo della nostra capacità tecnica rimarrà lì per milioni di anni perché non c'è vento sulla luna e allo stesso tempo di questo succedeva sulla terra e per le stesse ragioni militari i test nucleari se vi ricordate che lasceranno anche loro delle tracce nei sedimenti e allo stesso tempo questo corrisponde anche con la prima volta che ci siamo visti da fuori in particolare dalla luna questa foto iconica che si chiama Earth Rise fatta da Apollo è stato un wake up call su quello che siamo noi ha cambiato tutto ha cambiato il nostro narrativo abbiamo capito che siamo astronauti abbiamo capito che abbiamo una navicella sola e poi l'abbiamo dimenticato e questo ha iniziato se volete il movimento ambientale degli anni 70 e David dice che questa capacità di guardarsi da fuori questa self consciousness in pratica è l'inizio dell'anthropocene perché inizia quando ci rendiamo conto che sta iniziando per la nostra specie è proprio molto importante è una cosa unica è proprio uno step nella nostra evolution questo è l'inizio della mindfulness alla scala globale e oggi abbiamo questi satelliti che ci guardano tutto il tempo dunque è come avere uno specchio nello spazio su quello che facciamo dunque è come avere un wake up call permanente è proprio un'opportunità unica per vedere quello che facciamo noi in un senso un'altra rivoluzione di Copernicus in cui noi stiamo rivalutando il nostro ruolo come specie come sentinelle del pianeta perché abbiamo un ruolo per tenerlo in ordine e gli strumenti che abbiamo per fare questo è la nostra capacità di comunicare di lavorare insieme di trovare le soluzioni ai problemi e più recentemente di farlo in un modo globale con questa planetary intelligence in cui possiamo lavorare con internet questi strumenti sono gli strumenti che facciamo di noi degli umani sono gli stessi strumenti che sono stati usati per fare la stazione spaziale che è basata sulla collaborazione internazionale dunque abbiamo tutti questi tool e tutti questi dati per guardarci però sembra che nella vita di tutti i giorni non ci rendiamo conto noi continuiamo ad operare come se le risorse fossero illimitate non realizziamo che abbiamo una nave sola e che non c'è una nave per andare via sembra che nella vita di tutti i giorni non possiamo integrare questa visione globale dallo spazio ma siamo soltanto preoccupati di quello che succede a noi a livello locale e in questo momento qua questo può darsi che perché siamo soltanto all'inizio di questo movimento di coscienza globale siamo se guardiamo a livello di specie proprio nella prima ora di questo sviluppo ma può darsi che dobbiamo anche usare tecnologia per espendere la nostra visione per creare empatia per creare delle nuove storie usare la realtà virtuale per capire che non siamo soli ma che siamo una comunità per portare insieme tutti questi astronauti dunque la metafora di astronave da cui vi ho parlato oggi è anche stata inventata per farci capire che possiamo essere in controllo di questa nave che possiamo usare questa antropocene come un'opportunità della nostra evoluzione e grazie e